Un'altra materia in cui recentemente vado molto male è religione, no? Ultimamente mi sono un po' allontanato dalla strada del signore, ora il mio prof crede che io vomiti, mi si giri la testa di 360 gradi e parli lingue sconosciute, bestemmiando, lui lo chiama demonio, io vodka, però sono divergenze di punti di vista lì. Una cosa che però non sopporto della scuola italiana è che non si limitano a insegnarci le materie, nole, le nozioni di base, vogliono darci qualcosa in più. L'altro giorno ad esempio è venuta una signora a parlarci di adolescenza, ci ha detto che i ragazzi in questo periodo tendono ad avere un atteggiamento arrogante e superbo e a non ascoltare nessuno. L'abbiamo imbavagliata e chiusa nello sgabuzzino, che cazzo vuole? Tra l'altro trovo insensato che una vecchia venga a scuola a parlarci di giovani, io non sono mai andato in un ospizio a parlare di vecchi, porca troia. Ma devo fare autocritica, sì, devo fare autocritica perché ammetto che a 16 anni, nel 2017, è difficile concentrarsi per più di due minuti di fila. Io faccio autocritica e vi dico che non riesco a concentrarmi, cazzo. Io per più di due minuti di fila non riesco a concentrarmi. Stasera vi ho portato un pomeriggio di studio tipo mio, proprio un diario di bordo, no? Mi sono scritto ore 17.00, io cascasse il mondo, mi metto a studiare, mi metto a studiare. Sistemo la luce, prendo l'evidenziatore, lo provo, ha un colore bellissimo. Scrivo buon Natale in tutte le lingue del mondo. Cazzo c'entra Natale? Scrivo buona Pasqua in tutte le lingue del mondo. Poi assaggio la punta dell'evidenziatore, il sapore fa schifo ma mi ricorda che non ho fatto merenda. Faccio un rapido spuntino. Ore 18.30, mi metto a studiare, prendo il libro, casa editrice Calzecchi. Che non mi buffo. Faccio un rapido elenco di tutti i nomi buffi che conosco. 137, ne conosco 137. Per essere sicuro di non sbagliarmi li scrivo al computer e li riconto. 137. Ore 18.45, mi metto a studiare. Chiedo sul gruppo della classe quali pagine bisogna fare. Un compagno manda video di un cazzo che balla Gagnam Style. 20 minuti di faccine che piangono dal ridere. Richiedo sul gruppo della classe quali pagine bisogna fare. In 26 abbandonano la conversazione. Uno risponde da 102 a 190. Piango, piango, ma non mi arrendo. Google, come studiare 88 pagine di storia in un minuto. Cazzo ridete, si può fare, è provato, si può fare. Ma non appena digitola C esce, chi sono gli alieni? Ritengo di vitale importanza approfondire l'argomento. Ma appena apro la pagina mi si apre un banni in basso a destra che mi dice Vuoi conoscere donne single della tua età? Tra l'altro, donne single della tua età c'è una vecchia grinzosa che si tiene le tette raggrinzita. Bru, ci clicco sopra. Poca ipocrisia, ci clicco sopra. Mi si apre un'altra finestra che mi dice Hai 18 anni? Ora, la mia morale mi impone di riflettere a lungo sulla risposta da dare a questa domanda. Mi domando, è lecito mentire? È lecito infrangere la legge? Non è forse irrispettoso nei confronti di chi invece la legge la rispetta? Ecco, mentre la mia mente pensa a tutte queste cose, il mio corpo ha già eiaculato. Ore 19... Ore... Purtroppo è la verità. Ore 19.15. Mi metto a studiare. Mi ripeto in testa, stai concentrato. Leggo tre righe, non capisco un cazzo perché mi sto ripetendo in testa, stai concentrato. Le rileggo qualche volta. Ore 20.00. Capisco il senso delle prime tre righe. Mi merito un premio. Google. Premio. Non appena digito la P esce Pornhub. Mi sembra un premio adeguato. Tanto noi adolescenti possiamo permettercelo anche a breve distanza. Ore 20.30. Ore 20.30. Mi metto a studiare. Studio un paragrafo e lo so. Cazzo, lo so. Me lo ricordo. Lo canto per la camera, lo faccio con le voci dei politici, dei calciatori, dei cantanti. Addirittura facendo il balletto di Occidentali Scarma. Però ore 21.30. Cazzo, mi metto a studiare. Anzi, scrivo un pezzo nel quale spiego perché non mi metto a studiare. È vero, non so un cazzo. Ma comunque vado a Panta Ray and Singing in the Ray. Grazie. E un'altra cosa che io personalmente non sopporto del Natale sono i pranzi di famiglia. No? I pranzi di famiglia sono queste cose che organizza tua mamma. Mia mamma fa un ragionamento molto semplice, no? Siamo in otto in casa? Invitiamo altre persone. Facciamone venire altri. E quindi si invitano tutti, fa la rimpatriata e li invita tutti. Si affitta il Molise per fare questi pranzi in famiglia che si fanno queste tavolate da Campobasso a Isernia che meriterei un applauso solo per aver citato due cazzo di città del Molise. Cioè, voi ridete ma manco gli abitanti di Isernia sanno di essere molisani. Quindi si fanno queste tavolate infinite. E a fine pranzo c'è sempre quella zia. Tutti ce l'abbiamo. Quella zia... Quella alta così. Avete presente? Quella zia... Ce l'abbiamo tutti. Quella zia alta così brutta. Molto brutta. Ce l'abbiamo tutti. Ce l'avete presente per forza. Quella zia alta così molto brutta con i baffi. Tutti ce l'avete presente per forza... Ecco, se non ce l'avete presente siete voi la zia. Quindi è quella alta così brutta con i baffi. È quella che ti si avvicina in punta di piedi. È quella che fa questa cosa qua. È presente questa. Quella... Fa male cazzo sta cosa. È vero? Fa male. È amica dell'altra zia. Quella che ti ruba il nasino. Capito? Voi ridete. Mia zia me l'ha rubato a quattro. Me l'ha ridato a otto. Io per quattro anni non ho avuto il raffreddore. Ecco, quella zia... E tu non hai idea di chi sia. Non hai idea di chi sia. Tu l'hai vista una volta al battesimo. Poi per diciotto anni non l'hai più vista. No? È quella che ti dice... Ah... Io appena ti vedi. Io ti conosco da quando eri piccolo così. Dici zia ma... Quando cazzo mai sono stato piccolo così esattamente? Ma dopo diciotto anni che non la vedi? Lei esordisce con una domanda fastidiosa. Come va a scuola? Domanda invadente. Domanda veramente... Non c'è motivo di porre questa domanda a un diciottenne. Non che io abbia dei problemi con lo... Cioè io studio. Io studio... Poco. No dai, non è vero. Non studio un cazzo. E... Faccio un classico. Una scuola pubblica. Che cade a pezzi. Che tra l'altro funziona anche al contrario, no? Cade a pezzi. Una scuola pubblica. Un classico. Questa arriva con calma. Mi rendo conto... No, no, ma vi lascio il vostro tempo perché è giusto. E devo dire che... No, a me piace anche. Ho fatto la quarta superiore l'anno scorso. Devo dire, bella classe. Mi è piaciuta. Ho... Ho pensato di rifarla. E... Professori d'accordo all'unanimità. Quindi la sto rifacendo. Ma quindi come va a scuola? È una domanda invadente. È una domanda fastidiosa. Domanda alla quale io rispondo con un bene. No? Di cortesia. E loro fanno sempre la stessa battuta. E chissà come mai rispondono sempre bene. Bene. Beh, vedi, zia, io rispondo sempre bene. Per il tuo bene. Perché dal momento che ai miei occhi sei una perfetta sconosciuta, la domanda come va a scuola è un tantinino invadente. Anche tu risponderesti bene se ti chiedessi come va, che ne so, la tua secchezza vaginale, capito? Perché se non vuoi una risposta di cortesia, a me sta bene. Siediti di fronte a me e io ti spiego serenamente come va la mia scuola. Vedi, io domani sono interrogato su Kant. E non ho ben capito che cosa Kant critica Jung. Perché, vedi, Kant pretende l'esistenza di una conoscenza a priori, ma in questo modo non supra Jung, in quanto sostituisce il suo scetticismo giustificabile con una soluzione convenzionale fittizia. Ma se vediamo il nocciolo del contrasto, Kant critica Jung per aver considerato il concetto di causa falsoingannevole e per parlarne nei termini più miti, un'illusione scusabile in quanto l'abitudine, una necessità soggettiva di percepire spesso certe cose con le loro determinazioni l'una accanto dopo l'altra, è presa senza vedersene per una necessità, questa volta oggettiva di porre tale connessione tra gli oggetti stessi. Quindi, alla luce di tutto questo, mia cara zietta, converrai con me che la tua secchezza vaginale sia drasticamente peggiorata, cazzo! Questo è quello che vorresti risponderle, ma ti trattieni, non lo fai. Però mi sento comunque di darvi un consiglio dal cuore. Ecco, se vi capitasse di fermare un adolescente per strada, per chiedergli come va a scuola, non stupitevi se doveste rispondervi secchezza vaginale, ma soprattutto ascoltate il mio vero consiglio, che è fatevi i cazzi vostri, che tra l'altro è il consiglio che ha dato Hume a Kant. Grazie. Gli inglesi tra l'altro hanno un termine, no, per definire l'adolescente, che è teenager, no, che è molto semplice lì. Se nella tua età hai contenuto il teen, sei un adolescente, no, 16, 17, 18, 19. Ora io ne ho fatti 20, quindi in teoria mi confermate che, cioè non sono un adolescente, no, è finita. Quindi, cioè, tra l'altro io mi sono sempre chiesto come funziona il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, cioè com'è da un giorno all'altro, da mezzanotte, il giorno prima hai dei debiti scolastici, il giorno dopo hai dei debiti economici, così, no? Me lo sono sempre chiesto. Però io ho arrivato a 20 anni, in qualche modo ho provato a guardarmi indietro, no, e a cercare di analizzare la mia adolescenza, e mi sono reso conto che l'adolescenza è un periodo complesso, no? Sarete d'accordo che è un periodo difficile, per alcune frasi in particolare che ti senti dire tre, soprattutto, la prima terribile è ha chiamato la scuola. Che dici? Ma tutta? Come cazzo? Cosa? Cioè, sono importanti allora, no? La seconda, orribile, è ha richiamato la scuola, e la terza, forse la peggiore, a me piace dirla senza neanche spiegarla, proprio buttarla lì, è non mi sento pronta. Basta, io dirvela ve l'ho detta. Basta, proprio, mi piace anche il gelo che si crea quando, bello, no, vabbè, avrete capito, bene o male, in che situazione un adolescente maschio si sente dire questa frase, no, non mi sento pronta, quella frase che tu ti senti dire in un momento in cui sei pronto, cazzo, sei pronto? Tu sei proprio, sei prontissimo, no? Dici, sono pronto, lei ti dice, io non mi sento pronta. Ed è una frase fastidiosa, una frase fastidiosa ma affascinante, no? Affascinante, perché è misteriosa, no? Non la capiamo a pieno, no? Perché presuppone una superiorità del proprio raziocinio sul proprio apparato riproduttore, no? Superiorità che un esemplare maschio raggiungerà mai, non raggiungerà mai. E quindi io vi racconto brevemente il mio percorso di crescita per farvi capire perché non pronuncerò mai questa frase. Io una mattina quando avevo 13 anni, mi sono svegliato, no? Io, lui, lui era già sveglio da un paio d'ore, proprio. Si era tolto il pigiama, non era andato a far colazione, si era fatto la doccia. E quando io mi sono svegliato lui era già in piedi. E capita spesso che lui sia in piedi quando io mi alzo. Ho fatto sa che era lì, di fianco al letto, mi stava guardando negli occhi, proprio. Mi stava guardando, mi ha guardato, mi ha detto una frase che ha cambiato completamente la mia adolescenza. Mi ha guardato, mi ha detto, allora... No, aspetta, spiego perché se no non... No, mi rendo conto, non si capisce. Adesso mi imbarazza anche un po' a dirlo a tutto Zelig. Il mio pene parla come Silvio Berlusconi. No, è vero, mi rendo conto che è anche Demodè, però è evidente che parli come Silvio Berlusconi. Quindi mi ha guardato e mi ha detto, da oggi la tua unica ambizione nella vita è cercare di infilarmi ovunque tu possa. senza fare distinzione di razza, età, etnia, facciamo distinzione di sesso perché se no a scuola ti danno del ricchione. Ora io a 13 anni mi sono trovato con questa consapevolezza ed è difficile far fronte a questa voce, no? E tra l'altro quando faccio questo pezzo capita spesso che vengano delle ragazze da me a fine serata, beh, di solito capita. Ora stasera non so se succederà, però ho fatto so che l'altra sera è venuta questa mia coetanea, no? Avete presente come parlano le ragazze della mia età? La gran parte viene da me questa ragazza e mi dice c'è comunque nel senso, no? C'è nel senso, boh, c'è tipo, c'è tipo boh, nel senso, no? Capito? L'ho detto, guarda, così non capisco. C'è un problema di comunicazione, metti un soggetto, un verbo qua e là, capito? Facciamo che mi mandi un messaggio. Ah, dai, magari un vocale. Eh no, un vocale sia da capo, capito? No, dico, c'è nel senso, secondo me, cioè tipo boh, c'è nel senso, tipo che noi ragazze, comunque, secondo me, secondo me, tipo boh, no? Noi ragazze abbiamo le stesse identiche pulsioni sessuali che avete voi. Ho risposto, provamelo. Sì, come, dammela. Aspetta, no, aspetta. No, perché sembra una risposta banale, sembra una risposta banale, ma da qua ci sono due strade, no? Due strade, siamo concentrati. La prima, lei rifiuta, non me la dà, le mie argomentazioni sono avvalorate, no? La mia tesi è più forte. Seconda strada, lei accetta, me la dà? Cosa minchia, me ne frega delle mie argomentazioni, capito? C'è tutto un senso logico dietro questa cosa. In realtà, il motivo per cui sono qui stasera è un po' delicato, è una cosa un po' sensibile che io stasera vi dico per la prima volta, è un peso che mi porto dentro da tanto tempo e stasera sto trovando il coraggio di dirvelo, insomma, di fare, come si dice, coming out, in qualche modo. Scusate, è anche un po' difficile per me. Io sono di Baggio. Quanti di voi conoscono Baggio per alzata di mano? Tutti, penso, immagino. Se c'è qualcuno di Baggio può alzare la pistola? Se c'è, no, nessuno. Tutti con la fedina penale intonsa. Però, no, in realtà, si fa un gran parlare. Come spiegare Baggio a chi non la conosce? Baggio, per riassumerla in poche parole, Baggio è un po'... Baggio è una Quartogiaro che non ce l'ha fatta. Fondamentalmente, questa la capiscono solo quelli di Baggio e di Quartogiaro, però, no, si fa un gran parlare di Baggio come una zona brutta, una zona malfamata, in realtà è una zona fantastica, no? È un piccolo quartiere nella periferia di Milano e per certi versi sembra di essere rimasto nel 1600, no? Cioè, quella poesia nell'aria, no, le mucche, le strade non asfaltate, l'aspettativa di vita di 27 anni. No, è un bel posto, Baggio, è un bel posto. E come tutti i ragazzi che nascono e crescono nelle periferie, io ho un forte senso di appartenenza, no? Quasi un patriottismo proprio. Infatti, la mia baggesità ha iniziato ad uscire fuori, proprio a venire fuori in modo prepotente, quando io avevo sei anni. Io a sei anni ho iniziato a parlare di ghetto, senza sapere bene cosa fosse, però parlavo di ghetto, no? Io a otto anni ho cercato di convincere i miei genitori che fossi nero. Non so, bene, io a dieci anni ormai parlavo come i doppiatori dei neri nei film americani. Non so se avete presente. Ehi, cazzo, fratello, questa merda non funziona! Porta il tuo culo bianco fuori dal mio distretto. A dieci anni, no? Capitavano anche situazioni imbarazzanti, no? No, è vero, tipo con mia mamma. Ehi, ti ho detto che non li mangio, i cazzo di spinaci, va bene? Eh, me ne fotto che sono pieni di ferro! Se continui a parlare sarai piena di ferro anche tu, capito? Queste cose imbarazzanti che... Poi però, fortunatamente, a tredici anni ho iniziato a frequentare quello che è un po' il centro culturale di Baggio, il ritrovo dell'intelligenza baggese, diciamo, che è il campo da basket. È vero? Io a tredici anni ho iniziato a frequentare e ho conosciuto delle persone veramente importanti proprio per la mia vita. Io ho conosciuto Patrick, ho conosciuto Brian, Sharon, Chanel, Christine, mi prendevano per il culo, dicevo, minchia, zio Davide, cazzo di nome è, esotico, figa! Situazioni veramente... Io al campo da basket, io diciamo, ho conosciuto proprio l'ignoranza con la I maiuscola, no? Come dice Brian con la L maiuscola. Però, no, è vero, no, per dire Brian è proprio... Brian è ignorante, è uno di quelli che lo vedi proprio da lontano, dici, questo è ignorante. Poverino è stato bocciato 4-5 volte a scuola, i suoi genitori hanno deciso di iscriverlo a una scuola particolare che abbiamo soltanto a Baggio, che è una scuola a sei anni in uno, e, è vero, ci sono i programmi concentratissimi, settimana scorsa è andato a pisciare durante la lezione, si è perso la prima guerra mondiale, per dire, no, è vero, per dire quanto sono concentrati i programmi, però no, è vero, è vero. Per dire... a Baggio siamo talmente ignoranti che facciamo fatica anche nella cosa che in teoria ci dovrebbe riuscire meglio, che sono le truffe. Vi faccio un rapido esempio, no, io praticamente alle medie dovevamo scegliere il rappresentante di classe, no, si fa in classe, questa cosa, e viene scelto Brian come scrutatore. Ora, sorvoliamo sulla scelta di Brian come scrutatore, però lui vuole far vincere il suo amico Patrick, e alla fine viene fuori che Patrick vince per 16 voti contro i 10 dell'altro candidato. Erano contentissimi, no? Erano entusiasti, erano così contenti che io proprio non me la sono sentita di dirgli che in classe siamo in 20. Ci state mettendo un po', probabilmente siete di Baggio anche voi, ci sta, va bene, va bene, così. Le ragazze, le ragazze le riconosci? Le ragazze di Baggio sono facili da riconosci? Sono quelle che su Instagram, no, postano le foto, quelle, tipo tramonto, no, e loro girate, che tengono sia la faccia che il culo, che non so bene, la bocca, così, che probabilmente le labbra così le tengono per l'equilibrio, perché altrimenti cadrebbero, no, perché li mantiene, citazione, citazione importante, no, no, e nei commenti, i commenti sono un mondo lì, amo, ma cosa sei? Teseo, ma parli tu? Cuore, ma sei uno splendore. Io ho capito un po' il meccanismo, mi sono inserito, complimenti, gran bel culo, mi ha bloccato, non ho ben capito, non ho ben capito come funzioni, però Baggio rimane un posto, un posto incredibile, un posto mistico, quasi, no, onirico, no, che ti costringe a farti delle domande, delle domande profonde, una, su tutte. Ehi ragazzi, dove cazzo è il mio motorino, porca puttana, è possibile! Grazie a tutti!